Oggi Almind Bracco ha avuto modo di ascoltare esperti in vari settori che ci hanno aiutato a capire ancora meglio come la rivoluzione dell'intelligenza artificiale avrà un impatto straordinario per quanto riguarda la salute delle persone. Le aree dal mio punto di vista più promettenti sono quella del sviluppo di nuovi farmaci come anche quello del repurposing ovvero la possibilità di utilizzare farmaci esistenti per andare a curare delle patologie che adesso non sono servite in maniera adeguata ma soprattutto attraverso l'intelligenza artificiale di sviluppare dei farmaci estremamente targettati quindi con una alta efficacia dal punto di vista terapeutico. Abbiamo anche ascoltato come la disponibilità di dati da parte delle biobanche e la conoscenza del genoma possono aiutare a sviluppare in modo ancora più accurato terapie specifiche e questo sicuramente va in linea con un'accelerazione di quello che è il drug discovery. E poi abbiamo anche visto in maniera tangibile come l'intelligenza artificiale può migliorare i processi che oggi vengono utilizzati per lo sviluppo dei principi attivi. Anche questo è un aspetto importante, rivoluzionario che può avere un impatto significativo per rendere questi processi più efficienti da una parte ma anche più sostenibili.